In questo video vedremo 5 verità sul no contact contro tantissime delle bufale che girano in internet, in youtube, di youtuber che fanno video tanto per fare video e creano una grande confusione e dei danni nella tua vita sociale, sentimentale, amorosa, sessuale, eccetera. Vedremo 5 elementi fondamentali, almeno dal mio punto di vista, per capire cos'è questo no contact, come funziona, da dove viene, come va usato e quando va usato, perché se non segui alcune cose questo no contact può essere una bomba atomica negativa nelle tue relazioni sentimentali, sessuali e sociali. Andiamo a queste 5 verità, questi 5 punti sul mondo del no contact relativo alla seduzione. Ciao Alex Onofri, se sei nuovo o nuova in questo canale ricorda che trattiamo miglioramento personale, comunicazione strategica e tutto ciò che ti serve, come dico io, per diventare strong, ossia la persona che vorresti essere e ottenere ciò che vorresti ottenere, ciò che sogni e creare una vita più possibile come la desideri. Ma andiamo alle 5 verità su questo fatidico no contact per sedurre. Iniziamo dalla parola in sé, no contact, che significa nessun contatto, non contattare, non interagire, fai silenzio stampa, non rispondere, non cercare, non riscrivere, eccetera eccetera. Allora se tu non devi riscrivere, di solito una persona dovrebbe dirti non riscrivere, oppure non contattare, sparisci per un po'. Dare un nome così, no contact, va a creare una sorta di amplificazione fumosa di questo concetto. E poi molti speculano, come vedi nei video in YouTube, ad esempio, o in altri canali internet, cioè succede questa cosa, che ti dicono ah, la persona non ti risponde, ti tratta male, non riesce a sedurre, non riesce a fare questa cosa, usa il no contact e ogni tuo problema si risolverà, ogni tuo sogno si avvererà. E quindi, cioè, ha un che di venditore di pentole, venditore da mercato, di frutta, di urlone, ok? Quindi è meglio suddividere le tecniche in elementi utili. Quindi cerca di rispondere con più freddezza, ad esempio, perché fare no contact che significa? Significa tutto e non significa niente. Oppure cerca di rispondere con un ritardo maggiore, oppure aspetta un giorno prima di rispondere, vedi se riscrive nel frattempo o dopo che già ti ha riscritto e tu non hai risposto, ok. Però nel quinto punto e nel quarto punto di questo stesso video vedremo alcune tecniche. Quindi, fai molta attenzione a questa cosa, che molti speculano su questo no contact. Il no contact è la soluzione a tutti i tuoi problemi, è la soluzione a tutti i tuoi sogni, riuscirai a fare ogni cosa con il no contact. Ecco, non è così, perché il no contact è un puntino nell'universo della seduzione, della persuasione, della strategia, ok? Viene empatizzato, enfatizzato anzi troppo questo elemento e per questo ci faccio anche dei video utilizzando purtroppo questa stessa parola chiave, questa stessa parola per far trovare anche il mio punto di vista in questi video che in cui cerco di praticamente fare una panoramica, un'introduzione, dirti cos'è, da dove viene, in cosa devi stare attento, attenta e anche alcune strategie che ora vedremo nelle successive parti. Un altro aspetto riguardante il no contact che voglio dirti, perché prima in questa introduzione in cui poi ti darò anche delle tecniche, voglio farti capire un attimo qual è il mondo di questo no contact. Allora, intanto viene dall'America questo no contact e ci sono delle tecniche molto particolari. In Italia ci sono alcuni personaggi che hanno ripreso malamente, come si dice, questi elementi, li hanno al fulmicotone spinti, no contact di tre giorni, di 21 giorni, di una settimana, cosa fare dopo il no contact, cosa fare prima, cos'è il no contact, questo bla bla bla, tutta questa roba qui. Cioè, hanno creato una fumosità, questo tormentone del no contact, addirittura una parola chiave molto cercata, eccetera, e allora bisogna fare chiarezza. Allora, tu devi chiederti, quando vedi qualcuno, come anche verso di me, anche nel mio caso, quando vedi qualcuno che ti parla di questi no contact, queste tecniche di seduzione miracolose e fa 200 video sul no contact, in cui ne basterebbero una decina per dirti tutto e di più, perché poi ci sono tante altre tecniche più potenti, ma poi ti farò una panoramica e ti spiegherò anche il no contact cos'è veramente in questo stesso video e altre tecniche per utilizzare il no contact realmente, tu ti devi sempre chiedere, ma la persona che ho di fronte ha un'esperienza di seduzione? Ha avuto esperienze con varie persone in varie situazioni di seduzione per cui può insegnare a me o dare consigli a me su questa cosa? Da quanti anni è che non conosce un ragazzo nuovo, un uomo nuovo o una ragazza nuova, una donna nuova? Perché se la persona è aggiornata 30 anni fa che non c'erano i social, non si utilizzava il telefono più di tanto, non c'erano tanti ambienti, tante cose, non può insegnare a te. Tu devi chiederti, ma questa persona è un seduttore, una seduttrice? Questa persona veramente ha successo nella sua vita? A me sembra che da tutte le cose che dice, anche da altri video, altri elementi in cui parla e mi dà dei consigli, potrebbe sedurre femmine, maschi o insomma in base a quello che vuole e potrebbe insegnare a me nella mia situazione ad ottenere quello che voglio? Quello che dice è accurato, è apporto, appassionato, ha una conseguuzio logica? La persona fa 200 video tutti uguali oppure 200 video in cui spesso si contraddice? Ecco, va valutata la persona che ti sta dicendo queste cose, perché è ovvio che se qualcuno che è di seduttivo o di seducente o di relazionale non ha nulla a livello di valore, di abilità eccetera, ascoltare quella persona significa ascoltare non un formatore, non un seduttore, non un vero consigliere che ti dà il potere e l'abilità, la conoscenza, l'esperienza per sedurre e conquistare, ma ti dà soltanto dei danni, ti fa fare confusione, ti crea dei problemi e va a distruggere tutto ciò che per te è amore, sentimento, anche sesso volendo, relazioni, a volte famiglie, rapporti familiari, figli, mariti, mogli, insomma, si crea un casino. Quindi tu devi ascoltare i consigli, ma valuta anche me i consigli che ora ti darò in questo stesso video e chiediti se possono essere dei consigli giusti, intelligenti, effettivi e non scontati, perché molti non sono formatori seduttori, ma sono dei copiatori, si prendono delle cose, si fanno una scaletta e poi te la, te la, diciamo così, tra virgolette, vomitano contro. Cioè fare uno schemino, un riassuntino e poi farti la lezioncina così, sono capaci tutti. Questa è una cosa che impariamo a fare alle scuole elementari. Quindi chi fa copia e incolla non è un formatore, non è un seduttore, non è una persona che dovresti seguire come consigli, ma è una persona che dice la sua opinione. È un opinionista, ma secondo me dovrebbe essere così, ma nella realtà le cose sono assai diverse, non sono così intuitive, se no sarebbero tutti dei geni, ma tu non sei una persona stupida, perché allora non ci arrivi? Ma magari perché non hai studiato, come ad esempio faccio io, da vent'anni e quotidianamente messo in pratica, verificato con i feedback di tutte altre persone, eccetera, proprio non hai dedicato la vita a questo, giustamente anche. E quindi non ci arrivi perché alcune cose non sono intuitive, non sono intuitive. Quindi quando qualcuno fa dei riassuntini o ti dice la sua opinione, ti dà quello che potresti ancora meglio magari raggiungere da solo o da sola. Quindi no a formatori finti, no a chi fa solo lo youtuber nella vita, eccetera, io faccio il formatore, il trainer, tengo corsi, consulenza, eccetera, no a chi si fa un riassuntino di roba pressa in giro a caso e ci fa 200 video tutti uguali o 200 video tra l'altro o tutti uguali o tutti incoerenti uno con l'altro, perché questi sono degli opinionisti, ma a te non serve un'opinione degli altri, a te serve ciò che funziona, oppure sono dei riassuntori, cioè coloro che fanno un riassunto e poi ti dicono quello che hanno trovato. Ma questi elementi li puoi trovare anche da solo o da sola in internet, senza che questi qua ti fanno maggior confusione con questa fumosità e con questa roba, con il no contact, puoi ottenere tutto. Ma andiamo ad altri elementi più pratici. Come terzo elemento voglio dirti questa cosa, entriamo subito nei metodi, in qualcosa che può essere utilizzabile, anche se ti premetto che con gli elementi che ti ho detto finora evito a te di farti fare degli errori e quindi sai che in seduzione, nelle relazioni, sesso, amore, tutte queste cose qua, quando fai un errore va indietro di 20 passi e poi devi farne il doppio per recuperare l'errore che hai fatto, quindi già non farti fare errori comporta che praticamente fai dei passi reali perché non li fai indietro e quindi è come se l'avessi fatto in avanti. Ma andiamo a questo punto fondamentale che nessuno mai ho visto che ti dice e quindi una verità sul no contact. Allora, sai che spesso ti consigliano di fare il no contact quando la persona non ti vuole, non è interessata a te, non ti cerca, non ti scrive, non ti risponde, non ti contatta, eccetera, eccetera. Ma ricorda bene cosa ho detto, non ti contatta. Quindi quando ti dicono di fare questo no contact, in realtà chi è che fa veramente no contact? L'altra persona. Quindi ricorda quando ti dicono fai no contact perché quello non ti vuole, non ti cerca, non ti contatta, eccetera, è proprio perché non sei tu che stai facendo no contact, anche se inizi da quel momento a farlo, perché è l'altra persona che sta facendo già no contact con te. E quindi tu immaginano che sono queste due persone, tu sei qui e l'altra persona è qua. No, questa persona, l'altra persona, quella che tu vuoi, fugge. E tu ti ritrovi qua e dici, sai che faccio? Fugo. Ma se tu quando stai qui, stai qui o fuggi, a questo qua non gli ne frega niente perché già è fuggito e neanche percepisce la tua fuga, cioè il tuo no contact. no contact. Quindi quando voi vi relazionate, vi scrivete, vi rispondete, eccetera, eccetera, vi vedete e questo va via, questa persona va via o non risponde o non vi cerca e tutta questa roba qui non ha interesse, è questa che facendo questo qua vi fa no contact. E quindi è inutile quando siete da soli, quando tanto la persona non contatta, non risponde, non vi cerca, fare no contact. Che significa? Cioè quindi fare no contact su chi fa no contact è un po' una fregatura. Serve solo per dire no, fai no contact così tu ti distanzi, ti distacchi e su questo ci faremo un video, su questa cosa del fare no contact per distaccarti tu, perché poi vedremo anche qua la verità. Quindi iscriviti al canale perché ti farò tanti video su queste cose perché sono fondamentali, perché il mondo e internet sono pieni di bufale e poi tu valuterai se io ho ragione o se hanno ragione gli altri, valuterai su di te. Quindi quando tu fai no contact perché qualcuno ti ha fatto in realtà lui o lei no contact, fa un pochino ridere, va a dire ciao mi fai schifo vado via, ah sì sai che faccio vado via ti abbandono, abbandoni chi? Quello manco c'è, c'è, capito qual è il fatto? Quindi ricorda che quando una persona ti fa no contact, che è quella persona tra l'altro che ti fa no contact, ripeto, tu potresti fare un qualcosa, ossia non ricontattarlo, non cercarlo più, non stare lì a fare lo stalker o la stalker eccetera, ma in questo caso non parliamo di no contact, ma di in caso recovery contact, cioè recovery, recuperare il contatto con quella persona, quindi fare in modo che ti risponda, riscriva, che ti cerchi, che sia interessata a te. E ora vedremo degli elementi, i prossimi due punti sono su come fare e quando fare no contact e come fare fondamentalmente questo recovery contact, ti darò degli elementi subito pratici. Quindi fondamentalmente andiamo a degli elementi più interni a questo no contact, però prima dovevo fare delle premesse, insomma chiarificare, purificare, esorcizzare questa tecnica dalle cavolate, andiamo su questo elemento. Quando è che in realtà, per semplificare molto, tu dovresti fare no contact. In generale il no contact va fatto quando le cose vanno abbastanza bene o vanno molto bene. Che significa? Che appunto se la persona va via e tu fai no contact, il no contact neanche viene percepito. E allora che devi fare? Quando c'è già un po' di comunicazione o quando la persona è un po' interessata o quando almeno risponde o quando un po' ti cerca, quando tu la cerchi magari ti risponde, c'è una situazione abbastanza decente o maggiore di decente, sei tu che lì puoi fare no contact. Perché quando state qua, se tu vai via alla persona, probabilmente qualcosa manca. Magari ancora non hai creato un interesse sufficiente, un'attrazione, amore, interesse, intrigo e quindi non sentirà magari la mancanza emotiva, eccetera. Però quando tu rifiuti una persona e siete in una situazione in cui le cose ancora vanno bene o abbastanza bene o benino o decentemente, allora tu vai ad incrinare le sicurezze e le certezze di quella persona. È in quel momento quando le cose vanno ancora abbastanza bene o bene che se tu fai il no contact, quindi... e poi i no contact sono di vario tipo che ora ti dirò. Quando appunto le cose vanno abbastanza bene o bene che se tu fai il no contact, crei quello che dovrebbe creare il no contact nelle tecniche originali, non nelle copiature sbavate che spesso vedo nei canali YouTube italiani. Ok? Quindi il no contact va fatto quando ancora la persona ti risponde, quando ancora c'è un'interazione reciproca, quando la persona inizia ad intrigarsi, quando... cioè praticamente prima e se non la persona fugge, cioè prima che fugga la persona e se non sta fuggendo, oppure questo è un altro metodo in più quando vedi che c'è ancora interrelazione tra voi, interazione interrelazione, quando c'è un po' di interesse, se c'è un po' di simpatia, empatia eccetera, ma la persona inizia, e sottolineo, inizia a rispondere un pochino meno, inizia a interagire un po' meno, vedete qualche piccola incrinatura, piccola, perché deve essere piccola l'incrinatura? Perché è lì che ancora c'è un buon potenziale e magari tu allontanandoti vai a ridestare l'attenzione, l'interesse, o ad incrinare delle certezze, una superiorità, o alcune cose che fanno leva su degli aspetti intrapsichici, che poi tratteremo perché altrimenti è un argomento abbastanza ampio, e quindi è in quel momento che se la persona interagisce e tu vai via, crei un maggior interesse, una curiosità, magari ti chiede come mai, così, e se c'è una buona interazione, interrelazione tra voi e dall'altra parte c'è una leggera incrinatura, se tu fai il no contact, ma ora ti dico anche come, vai intanto a punire questa sua incrinatura, cioè questo suo non essere come prima, che ti risponde magari un po' meno, con meno attenzione, con meno enfasi, eccetera, eccetera, e poi ovviamente crei quello che crea il no contact, un pochino di senso di abbandono, un po' di senso di sfiducia in se stesso, o se stessa dipende dal sesso di quella persona lì, un pochino di scarsità, e tutti questi elementi che poi, se volete, e scrivete nei commenti se vi interessa, andremo a trattare, cioè la psicologia del no contact, intrapsichica, ok, ed emotiva, emozionale, ma anche razionale. Poi come fare il no contact? Allora, per questo io ho fatto già un video, poi oggi, domani, dopodomani farò altri video, quindi iscriviti al canale per ricevere le notifiche, e guarda nel primo commento qua sotto, nella descrizione, perché te li linkerò, però già ho fatto un video sulle mie quattro tecniche di vero no contact, ok, e te lo linkerò in fondo al video, e anche qua sotto ovviamente nella rassegna del no contact, e sono quattro metodi da utilizzare per fare il no contact in base alla situazione. Quindi come fare il no contact? Dipende dal tipo di relazione, dal tipo di cosa che vuoi ottenere, dal tipo di persona che c'è in quel momento. E già ho fatto un video che è sostanzioso, è bello dettagliato, delle quattro tecniche reali di no contact. Quindi te lo puoi andare a vedere anche subito, ora te lo linko prima del quinto punto, che anche questo è fondamentale, e comunque sempre nei link qua sopra, alla fine del video, sotto in descrizione, nel primo commento, trovi anche gli altri video che farò oggi e domani, per questo ti consiglio di iscriverti al canale, spuntare la campanella con tutte le notifiche. Ma andiamo al quinto elemento, alla quinta verità sul no contact. Vediamo la quinta verità sul no contact, ripeto questo video introduttivo, vi fa un po' di pulizia mentale su questa tecnica, su cos'è, a cosa serve, da chi ascoltare, eccetera eccetera. E praticamente ognuno di questi punti verrà approfondito in un video che farò in questi successivi giorni. E quindi qual è la quinta verità del no contact? Allora già abbiamo anticipato e abbiamo detto che quando qualcuno sparisce, non vi risponde, non vi vuole, eccetera eccetera, non vi cerca, è lui o lei che sta facendo no contact. E quindi voi cosa dovete fare? Sì, potreste fare il no contact, ma è come sparare contro il cielo, non c'ha senso, non ha senso assolutamente, perché già siete voi sottoposti in realtà ad un no contact da parte di quella persona. Allora, tiriamo fuori questo nuovo concetto del recovery contact, ossia come fare quando una persona fa no contact con voi, ok? Allora, questo, diciamo così, no contact di riflesso, in un certo senso, chiamiamolo recovery contact, quindi recupero di una situazione in cui riceviamo il no contact. Qua vi do dei punti rapidi, poi vi faccio un video apposito perché sono tanti elementi, tanti dettagli. Allora, intanto ovviamente voi non dovete ricontattare, ricercare, rifare domande, insomma tutte queste cose qua, perché? Perché se la persona fugge e voi la cercate, magari continua a fuggire, ok? Poi, non è detta questa cosa e per questo io vi consiglio di guardare quel video sui quattro tipi di no contact e tutti i video che farò successivamente, però se voi cercate la persona, scrivete, chiamate, la persona non risponde, non vi scrive, eccetera, eccetera, quindi si sta, vedete, allontanando, che succede? Che se poi la persona non neanche legge il messaggio, non risponde, non riscrive, oppure risponde con monosillabi e poi smette di rispondere, poi continuate a scrivere e la persona continua a non rispondere, continuate a scrivere, insomma diventate persone con zero valore, zero potenziale, potenzialmente degli stalker e l'attrazione, il potenziale, l'interesse si abbassa sempre più, va a finire che vi blocca. Allora, intanto, cosa potete fare così rapidamente? Vi do solo dei punti. Intanto, quando la persona non vi risponde più, potete fare una domanda, una domanda chiusa. Non so se hai capito quello che ho scritto. Vedi, la domanda chiusa è una domanda che non ha il punto interrogativo. Se voi chiedete, hai capito quello che ti ho scritto? Se la persona non vi risponde, c'è questo punto di domanda, questa domanda che cade nel vuoto, perdete punti potenziale, livello di attrazione, eccetera. Se invece voi scrivete la domanda implicita, su cui ci ho fatto un video, anche su questo cercatelo nel canale, quindi al posto di scrivere, hai capito quello che ho scritto? Perché è una domanda che serve per far rispondere quando non vi risponde. Se invece di scrivere questo, o insomma chiedere questo, chiedete, non so se hai capito cosa ho scritto. Vedi che non c'è il punto di domanda. E voi affermate, io non so se tu hai capito quello che ho scritto. Non è proprio una domanda, vedi, è un'affermazione, però include una domanda. Questo è il primo piccolo errore che potresti fare quando, che poi non è un errore, però per dire, quando tu scrivi la persona non ti risponde, l'unico ricontatto che puoi fare è inviare questa domanda, oppure ci sono altri metodi per farti rispondere, anche su questo fatto di video ne farò altri, però puoi fare questo ricontatto solo una volta, per vedere se magari era distratta la persona, oppure se con questa domanda implicita recuperi, recovery contact, recuperi la risposta di quella persona. E da lì poi sono tutte tecniche per tirare a parlare, rintrigare la persona, su cui ho fatto dei video, perché sai che sono tanti argomenti, e quindi li puoi cercare in questo canale, iscriverti e poi ovviamente farò altri video. Lo so che sono ripetitivo, però è fondamentale. E se la persona poi non vi risponde anche a questo primo recovery contact, allora dovete smettere di cercare la persona. E cosa fate? Ti do dei tip rapidi giusto per darti una panoramica, poi su questi elementi ci farò dei video, quindi approfondisco, non è che sono generico o rapido, però voglio solo darti un input poi da approfondire. Se poi dopo questo primo recovery contact, tu vedi che non risponde, allora devi smettere di scrivere e cercare un recovery contact, aspettando almeno uno o due giorni, per non far vedere che stai sempre lì col fiato sul collo, ma non 21 giorni. La cosa dei 21 giorni toglila dalla mente, perché tutta un'altra roba su cui ho già fatto un video, cerca Alex o no, frino contact 21 giorni, però ce ne farò un altro ancora più specifico. Quindi togli 21 giorni, 3 giorni, 48 ore, questa roba qui, eccetera. Circa un giorno o due dovresti aspettare, solo per non far sentire il fiato sul collo, poi dipende dalla situazione. E quindi cosa devi fare? Vedi se magari la persona pubblica dei post nei social, eccetera, oggi giorno è tutto relativo ai social, ad internet, in caso metti dei like, scrivi dei commenti contestuali, e vedi se la persona rimette like, i tuoi commenti contestuali, cioè che devono essere inerenti a quell'argomento lì, e non così a caso, se no sembra che vuoi solo contattare così, e vedi se la persona interagisce con i tuoi commenti, con quello che fai, con i tuoi like, se rimette like, ricommenta quello che tu hai commentato, o a cui hai messo like. Poi vedi sempre in base a quello che pubblica, in base ad altri elementi, se pubblica delle cose, interagisci con queste cose qua, già si crea un contatto che puoi usare come test, valutando se appunto ti mette like a quello che tu scrivi, come commento, o se ricommenta i tuoi commenti. Quando magari la persona ricommenta, mette like ai tuoi commenti, ai suoi post, eccetera, si è ricreato un microcontact, perché sta interagendo comunque con te, anche se non in privato, e poi da lì dopo due o tre volte che vedi questa cosa, quindi magari passa qualche giorno, puoi ricontattarlo, facendo delle domande, o parlando delle battute, insomma delle cose così inerenti, quindi contestuali legate alle cose per cui già ti ha risposto sotto a questi commenti, sotto a questi post. Questa ad esempio è una delle tecniche, ora per non far durare 20 ore questo video, ci sono tante tecniche, questa è soltanto qualche piccola chicca, qualche tip rapidissimo, ci farò dei video, quindi insomma farò una rassegna sulle tecniche di no contact, come fare quando la persona ti fa no contact, eccetera, anche se a me, ripeto, non piace chiamare questa roba no contact, ma sono delle situazioni a cui tu puoi far fronte con altre tecniche, strategie, reazioni, comunicazione, eccetera. Comunque avere una buona mentalità, un buon linguaggio verbale, non verbale, comportamento, atteggiamento, autocontrollo emotivo, autogestione razionale, miglioramento personale, selezionare la gente, farsi rispettare, insomma tutto questo mondo del miglioramento personale, comunicazione strategica, seduzione, persuasione, eccetera, eccetera, è ciò che io tratto in questo canale che si chiama diventare strong, cioè persone con forza, strategia, valore e passione, anche incisività, persone che vogliono diventare come desiderano, fare la vita che desiderano e ottenere ciò che desiderano, quindi iscriviti al canale, io ripeto, se non mi conosci sono Alex Onofri, spunta la campanella con tutte le notifiche per vedere i nuovi video, intanto guarda i più di 320 video che sono già pubblicati e che dire, sei sempre strong, ci vediamo al prossimo video e ciao da Alex Onofri.